ciao amico bentornato con un nuovo appuntamento col paranormale prima di cominciare ricordati di iscriverti al canale e di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti ma ora basta parlare cominciamo un esploratore urbano entra in un edificio abbandonato e mentre ispezione il luogo fa un incontro davvero terrificante questo è ciò che ha filmato mentre l'esploratore urbano ispezione il luogo ad un certo punto si ritrova davanti una strana creatura dagli occhi rossi la stessa sembra avere sembienze umane è difficile stabilire con certezza chi o cosa potrebbe essere una cosa è certa trovarsi in una situazione del genere farebbe scappare via chiunque nel filmato seguente un uomo racconta che nella sua abitazione si agirebbe una strana ombra oscura l'immagine che state guardando è stata accatturata da una fototrappola messa nella stanza dall'uomo l'uomo racconta che la stessa viene scattata nello stesso istante che subisce la paralisi del sonno questo è ciò che è stato filmato il prossimo filmato è stato realizzato da un uomo di nome felix quella che sembrerebbe essere una bambina in realtà è una bambola acquistata dall'uomo secondo l'uomo ogni sera che torna a casa sua troverebbe il pupazzo in posizioni diverse una sera mentre l'uomo tornava a casa sua apre la porta e riprende questa scena questo è ciò che ha filmato è una cosa stessa L'uomo, appena entrato in casa sua, nota che è la bambola. L'uomo non è più al suo posto, ma se la ritrova proprio davanti all'ingresso. La stessa bambola incomincia a girarsi e a voltarsi verso l'uomo, che non può fare altro che uscire fuori di casa e andare in macchina a cercare aiuto. Ma mentre sta per accendere la macchina, nota dallo specchietto che, dietro di lui, qualcuno lo sta spiando. Nell'ultimo filmato vengono ripresi, da un uomo che vive in Texas, dei fenomeni paranormali che si verificano quasi tutti i giorni in casa sua. L'uomo, nonostante la paura, prende la telecamera e riprende il tutto. Questo è ciò che ha filmato. Qu'è nessuno? Qu'è nessuno? Qu'è nessuno? What the f*** is that? Some f***ing s*** in the water or what? What the f*** is that? Man, there's some c*** in my house. Get the f*** out. What the f*** is that? Oh, f***er, oh mea, oh mea. Filmato davvero spaventoso. Se devo dirvi la verità quello che mi è piaciuto di più è stato quello della bambola. E a voi quale di questi filmati vi è piaciuto di più? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Il video finisce qui ragazzi. Noi come al solito ci rivediamo alla prossima. Perdona. Basi 2 Grazie per la visione